A Barbara D'Urso, ma come si permette una conduttrice di invitare un ospite che viene per discutere di cose che sono legate alla cronaca della fattispecie a un programma che si chiama La Pupa e il Secchione, di cui sanno anche le pietre che io con una celebre litigata di tanti anni fa della prima edizione sono stato protagonista. Naturalmente non poteva mancare la Mussolini che ha cercato di interpretare in modo diverso quella che era stata una sua violenza nei miei confronti, togliendo gli occhiali in modo prepotente e io naturalmente ho reagito, ma quella è un'altra storia. Dopodiché c'è l'edizione nuova, vengo invitato, vengo pagato, vado e faccio una lezione su Michelangelo con Paolo Ruffini che mi accompagna e per qualche ora sto in questo luogo dove si riuniva questo gruppo di ragazzi a fare la loro guerra su sapere e non sapere. Bene, quando c'è la messa in onda mi comunicano che io ve l'ho tagliato, quindi non posso andare in onda, neanche una lezione su Michelangelo quale era, perché c'è la par condicio, ci sono le elezioni regionali e quindi questo impedisce che uno parli in televisione alla Pupa e il Secchione di Michelangelo perché questo potrebbe turbare la campagna elettorale. Accetto serenamente. Parlo tra l'altro con Salem, che è quello che ha l'autorità nella produzione, e dico mi dispiace perché il pezzo era bello, i ragazzi si erano divertiti, ha sentito parlare di Michelangelo in modo così nuovo. Mi dice sì, se lo mettiamo alla fine, non so più nulla, non so se ci sia ancora la trasmissione, quando siano le puntate vengo invitato a mi metterlo in una sfera in cui dovrei prendere posizione, però non so che cosa, chi, e non prendo posizione. Quando si vede che io non prendo posizione, i ragazzi dicono vieni con noi, vieni con noi, e io vado su divano dove ci sono i ragazzi ospiti, i quali sono rimasti probabilmente anche disturbati dal fatto che non hanno potuto esprimere la loro originalità. Capisco, ma perché? Perché mi hanno chiesto, anzi mi chiede la conduttrice di cui sono ospite, la signora D'Urso, maleducata, evidentemente non in grado di condurre una trasmissione, benché la conduca, se non creando situazioni di conflitto inutile, perché io ho a che fare con loro. Lo sapeva perfettamente, infatti ha mandato in onda il filmato della vita con la Bussolini. Dico, la pariché la volta che sono andato mi hanno censurato, questo detto, mi mando assolutamente sereno, senza parlare via con nessuno. E poi qualcuno mi ha raccomandato una ragazza, raccomandato vuol dire raccomandato da ragazza, io non ho nessun potere, quindi non hanno raccomandato o un politico o un potente. Qualcuno mi ha detto c'è una bella ragazza e una brava ragazza che sarà tra gli ospiti, che forse era, ma non l'ho pure identificata, una delle ragazze che non li presenti. Basta, su questo cafone mi ha detto vattene via, non sei ospite, ma come ti permetti, ma chi sei, vuoi imparare a condurre, vuoi imparare la grammatica, hai detto io ti caccio a calci nel culo, tu culo a me dici? Io sono il tuo ospite? E insisti dicendo vattene, vattene, vattene dove? Ero sereno a raccontare la verità, la verità è che sono andato, ho registrato, hanno tagliato e qualcuno mi ha raccomandato una ragazza che non so neanche chi fosse e ho anche detto Berlusconi me l'ha raccomandata, forse, ma la raccomandazione non voleva dire niente di più che c'è una brava ragazza, c'è una bella ragazza e Berlusconi infatti mi ha raccomandato anche te, cara signora Lusso, mi ha detto è molto brava, è una brava ragazza, non l'ho raccomandata e quando l'ho raccomandata a me che cosa è capitato? Quale vantaggio potevo dare io a te? Quindi se non capisci l'italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, no, io ti denuncio, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone, mi hai minacciato di darmi calci nel culo, tu, poi non si capisce con quale, e io ho semplicemente risposto che rimanevo lì, vattene via, vattene via, un ospite non si caccia mai, un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione, lo imparerai in tribunale, ti porterò in tribunale e spiegherai come è possibile che un tuo ospite è solo perché ha parlato, dicendo la verità, la verità ho detto, tutta la verità, dal taglio che si può misurare guardando la registrazione al fatto che qualcuno mi ha detto c'è una bella ragazza, c'è una brava ragazza che non so chi fosse, non ho letto il nome di nessuno, non so, tu puoi dire che ho letto il nome di qualcuno, ho detto che qualcuno me l'ha raccomandato, raccomandato a che cosa e per che cosa, raccomandato vuol dire una persona è brava, ti raccomando Manzoni, ti raccomando Leopardi, ti raccomando Dante, studia e impara a fare la conduttrice, cara Barbara D'Urso, Capone non lo dice un ospite, è un ospite e non lo cacci, chiaro?